Fan! Numbers! Biggest fan! Shazaaam! Oh, wow! Mi ci sono voluti 40 anni! Ma sono diventato come il vero Shazam! Che diavolo è? Come penso non posso pagare una cifra del genere? Sono solo un ragazzo. Perché non posso essere normale? Non mi piace più essere un adulto. Oh, capisco quale sia il problema. Non abbiamo ancora controllato la sua prostata. Lei ha 40 anni, sa? Dobbiamo vedere che sta succedendo laggiù. Wow, qualunque cosa lei stia per fare si ricordi che io ho solo 7 anni. Io non ho... Wow! Ecco che arriva! Wow, che sta facendo? Avrei dovuto saperlo che solo lo stregone può aiutarmi. Ma è possibile! Shazam! Ti scongiuro! Riprenditi i tuoi poteri! Io non li voglio più, ecco. Vorrei solo tornare a guardare... anime... e giocare a Fortnite. Ti prego. Vieni con me, figliolo. Ora, fai quello che ti dico. Adesso mi riprenderò i poteri. Chiaro. Tu devi solo chiudere gli occhi e dire... Shazam! Quando io ti dirò di farlo. Ma è grandioso, vecchio saggio. Ti ringrazio moltissimo. Oh, grande e potente stregone. Mi stai forse prendendo in giro? Cavolo. E ora come faccio? Ma si può vivere senza un rene? Beh, ecco. Dopo aver venduto anche l'altro. E così sono qui nudo come un verme. Del resto, volevo tornare bambino. Oh beh. Ciao ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel polliciazzo su, lasciate un commento qui sotto! Sì, abbiamo cambiato l'ultima battuta, ma del resto era difficile rendere il gioco di parole. Scusateci. E ora, passiamo ai salumi! Allora, io che sono selci, tenevo a salutare Davide Milan. Ciao Davide, quando vuoi, vieni a sfidarmi nella mia arena. Ciao, io sono Kermit e ci tenevo a salutare Christian Battista. Ciao Christian! Mi raccomando, ti aspetto all'arena di sel, non mancare! Ciao, io sono PikaJuan e ci tenevo a salutare Miriam Zaka. Ciao Miriam, vuoi sentire il mio calore ladino? Ciao, io sono Sonic e ci tenevo a salutare Nugget. Ciao Nugget, sei troppo lento, e meno male. Nugget.